Domenica 18 dicembre, San Graziano Vescovo. È il 352esimo giorno. Dall'inizio dell'anno ne mancano 13 al termine. Il sole sorge alle 7.45 e tramonta alle 16.29. La luna si leva alle 1.46 e tramonta alle 13.17. Eccezionale alta marea. Si segnalano rotture ai lidi e sembra che i danni complessivamente ammontino a un milione di zecchini d'oro. Le previsioni per domani. Tempo stabile con cielo da sereno, poco nuvoloso al mattino, a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per presenza di nubi alte. Probabili foschie e locali nebbie in pianura durante le ore più fredde, specie dopo il tramonto. Precipitazioni assenti. Temperature in pianura minime stazionarie o in ulteriore lieve calo con diffuse gelate. Massime senza notevoli variazioni.